Continuano a incarnarsi da un antichissimo castello comitale, ottenuto in feudo grazie al conte di Bourges, poco più di mille anni or sono, trasse il casato, senza fare nomi, un oscuro signorotto di provincia. Il nome e i meriti del fondatore del casato sono rimasti sconosciuti, ma una tradizione compiacente lo vuole far discendere da un ceppo familiare comune sia alla dinastia carolingia sia alla dinastia capetingia. Secondo questa tradizione il signore di Bourbon contava tra i suoi ascendenti un nipote di Carlo Martello. A giustificazione di queste leggende, nel secolo XVII il priore di Moulin avrebbe fabbricato delle prove con pergamene e lettere patenti debitamente invecchiate. Attraversando i secoli e la chiesa, questo casato regna ancora in Europa. Commento In genere le grandi famiglie che poi diventano grandi poteri iniziano da violenze, sopraffazioni e imbrogli. Questo perché, finché è incarnato nel piano fisico, l'uomo possiede un io che domina la sua vita e gli fa desiderare di prevalere sugli altri. La liberazione da questo desiderio potrà arrivare quando l'uomo non possiederà più un io e il momento arriverà, in obbedienza alla perfezione della legge, quando abbandonerà la ruota delle nascite e delle morti. Sin dalle loro origini, nelle grandi famiglie, si incarnano spesso entità che sono ancora dense di io e non solo. Anche dopo il trapasso, queste entità, attratte dalla loro creazione di potere, continuano a incarnarsi nella stessa famiglia come padri, madri, figli e cugini che mantengono alta, anche nei secoli, la loro creazione originaria. Questa è la storia reincarnativa di molti grandi casati.